Martedì ha avuto un pochino di raffreddore, ma poca roba però, siamo agli inizi per scrupolo, per non mettere in difficoltà le maestre, ho detto vabbè mercoledì stiamo a casa, facciamo la richiesta alla pediatra per capire come dovevamo muoverci. Tampone direttamente, giustamente, e stiamo ancora aspettando. Era stata Tiziana a metterci la faccia e a denunciare l'odissea che aveva vissuto con il figlio, un bambino che frequenta la seconda elementare, lasciato a casa con il raffreddore perché così si deve fare, e poi rimasto in attesa del tampone per circa una settimana. Oggi è il direttore generale della ASL Toscana Sud-Est, Antonio Durzo, a rispondere a lei e a tutti coloro che si sono ritrovati nella stessa condizione, ammettendo che un carico di tamponi come quello avuto nelle ultime settimane non era certo sopportabile per l'azienda. Fatto salvo che i ritardi ci sono stati, questa la soluzione proposta. Soprattutto sul fronte scuola, che immagino siamo di quelli su cui avete messo di più l'attenzione, ci segnalano invece dei tempi molto dilatati, non ovviamente in tutti i casi, ma in alcuni, per effettuare il tampone obbligatorio che serve per poi avere il certificato di rientro a scuola. Si sfiorano anche i dieci giorni in alcuni casi. Su questo è evidente che con l'inizio dell'attività scolastica siamo sommersi da richieste, per esempio, dei pediatri di famiglia sull'effettuazione del tampone. Ricordo che nel periodo di lockdown, quello più critico per tutte le aziende sanitarie, l'azienda Toscana Sud-Est faceva complessivamente mille tamponi. Adesso stiamo facendo 3000 tamponi al giorno ed è entrata in attività ieri una macchina che ci fa 500 tamponi, si parla dei test antigenici rapidi su tampone nasofaringeo. Questa macchina ha una operatività di 500 tamponi al giorno che è proprio destinata ai contatti dei casi scolastici e alla comunità scolastica. Da ieri è attiva, abbiamo a ieri sera un ritardo di 200 tamponi su tutto il territorio aziendale. Su Arezzo meno di un terzo di questi 200, conto che entro oggi l'arretrato sarà annullato. È evidente che le strutture dell'azienda non sono adeguate per supportare un carico del genere, che è altro anche inimmaginabile, anche perché abbiamo una difficoltà da parte delle ditte di fornirci le macchine e i reattivi, perché queste stesse macchine e questi stessi reattivi sono richiesti su tutto il territorio nazionale e in qualche caso anche mondiale. Intanto c'è da ricordare che il servizio messo a disposizione dalla ASL Toscana Sud-Est, che consente di eseguire il tampone in auto, si è spostato all'ingresso lato questura del parcheggio Baldaccio. All'utente che deve eseguire il tampone viene dato un appuntamento per evitare assembramenti. Il servizio è stato attivato anche dalle 9.30 alle 12.30 in precedenza, era solo di pomeriggio. Sull'aumento dei casi il perché è da ricercarsi nell'alto numero di tamponi effettuato in queste settimane, molto più alto anche nel periodo di lockdown. Se facevamo 5.000 tamponi nell'ultima settimana di agosto, ne stiamo facendo 8.000 adesso, quindi sono 3.000 tamponi. Stiamo galoppando, abbiamo fatto 5.000 tamponi nei primi 4 giorni di questa settimana. Quello che è da aspettarsi è questo. Arezzo ha una quantità di tamponi fatti per 1.000 abitanti di 23 tamponi per 1.000 abitanti, a fronte dei 10 che avevamo in epoca passata. Quindi il numero dei casi è anche frutto del numero dei tamponi. In più, nella prima fase noi facevamo il tampone ai sintomatici, invece adesso lo stiamo facendo ai sintomatici, ma anche agli asintomatici. Quindi lo scenario è complessivamente cambiato. Credo che proseguire nell'utilizzo dei dispositivi di protezione, mascherine come quelle che abbiamo in questo momento, disinfettante, e non frequentare ambienti affollati, avere uno stile di vita personale che ci protegga, possa rappresentare la strada necessaria perché quello che ci salva non è sicuramente il vaccino, ma quello che ci salva sono i comportamenti individuali.